Ehi mamma, bella la pasta, butta ai ragazzi, top 7 nube action, episodio numero 3, qui il camper, qui spawn killer, Cazzo io ho letto top 7, ho letto episodio 7, qui lo scarso, prima la top 7, commentate dallo scarso, il settimo posto troviamo il procione, che fa QUNFID, mamma mia, una triple feed di uccisione dei compagni, è una triple feed di fuoco amico più uno, era molto esaltato come l'ho fatto secondo me, sesto posto ragazzi, chi ci sarà? Ah, QUNA, 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 QUNA che era 99, che Vodafone non prende, non c'è campo in lockdown, no, come cazzo si chiama questa mamba, ah ok, non c'è campo e quindi cerca dove prende il telefono, non prende il telefono, QUNA che era 99, potrei provare a disinserire la sim e rimetterla dentro, magari mancava solo il pin, però si era dimenticato il pin, allora, e se fosse al quinto posto al quinto posto troviamo massa 168 io quando ho visto questa clip sono scoppiato a ridere per la demenza totale di questo poveretto che mette la bomba ovviamente parliamo di una clip che si chiama ninja like a ninja disintesco ninja come vincere una partita che cerca di scruggi due rincoglioniti che non sanno che c'è un culo per perra attenzione era pure l'ultimo round 4 a 3 vittoria con la bomba disintescata cioè vabbè like a ninja al quarto posto ringraziamo al vas per la intro c'è questo coglione di camper che cosa fa questo sanzo di spazio spiegacela tu dai questo è lag ragazzi è solamente che non sa usare un coltello guarda ci sono tipo io e loser che cerchiamo contemporaneamente di distruggere questo piccolo è la cara armata che non so come si chiama il 2 si chiama il 2 poi arriva lisina le donne si hanno distruggere la cara armata vincula da dietro vincula da dietro numero 3 numero 3 era il mutrattore il mutrattore la merda la merda il migliore il migliore tira fuori un javelin e fa una dodicesupla dodice dodici in un colpo ragazzi vedete no edge shot edge shot with javelin adesso mi provo un po' di inquadratura per capire bene di cui ero la testa e muoio pure io sei una merda io faccio gli edge shot con gli esplosini sei raccomandato sei terzo soltanto perchè sei raccomandato sei quarto perchè ho deciso di metterti io quarto di intercessione divina secondo posto chi c'è al secondo posto? lo scarso lo scarso joker no joker frattino basso campione di salto in lungo joker fitly lenge tanto estate e vola estate al primo posto sul trono attenzione sexy baby sexy mommy al primo posto dio in terra 271 217 per i non dislessici leggermente dislessi col piccolo scarso che cosa fa con questo cazzo di mp7 con un mirino fanno grafico spingono giù un avversario all'ultimo un po' spaesato quel poveretto non sa più dove andare uno contro il 300 praticamente soltanto che quei 300 erano leggermente più organizzati stavano in paranoia qua cammina indietro comunque la clip è di uomo saponetta l'ho leggero dal suo cinema da un mio amico questa è cassa questa è cassa chissà cosa succede non me lo dire arriviamo ad un elicottero anonimo e tripla o godfade o comunque a 3.000 punti con una cassa in testa poi non è la dianterra scusa si dianterra però a quattro cassa no perché vuoi usare il cielo la cassa esatto se è in terra non si dice c'era dio in quella cassa se vi è piaciuta questa top 7 lasciate un like un bello commento un bello mibi aiut e comunque per mandarcele mandatese alla email quella nuova ai nob contest la usiamo anche per le top 7 adesso in poi tutto in descrizione ragazzi come sempre arrangiatevi ciao a tutti il settimo episodio delle top 7 è finito ma abbiamo dato un po' in ritardo per andare al terzo bello allo scarso e bella chiante e bella sponchile